Cranio Heroes è la community ufficiale di Cranio Creations che si rivolge a tutti gli appassionati di giochi da tavolo. L'obiettivo della community è molto ambizioso, è quello di far conoscere i prodotti a maggior numero di persone possibile e di coinvolgere in modo sempre più diretto con noi di Cranio. A scriversi è semplicissimo, basta collegarsi al nostro sito e registrarsi. Tutto ciò che è necessario è un'email. In Cranio Heroes, oltre a trovare una serie di prodotti nei nostri giochi, troverai anche una serie di gadget non legati ai giochi da tavolo, come magliette, borracce e invece una serie di oggetti legati ai giochi, come componenti aggiuntive estetiche o mini-espansioni. per migliorare il gameplay o cambiarlo. Il mondo Heroes è un mondo variegato. Saranno coinvolti non solo le persone, ma anche le associazioni ludiche, i negozianti e le fiori del settore. Per esempio, per Modena 2022 daremo la possibilità ai nostri Heroes di poter prenotare e giocare in anteprima le nostre nuove uscite, tra cui il nostro nuovo progetto su Gistarter Anunnaki. Abbiamo tante idee che ci furono in testa, cioè, volevo dire, nel cranio. Innanzitutto, cambieremo il nostro sito e lo allargheremo oltre i confini italiani, dando la possibilità a tutti gli Heroes del mondo di unirsi. Successivamente, stringeremo nuove collaborazioni e partnership con diversi enti e altre aziende, come ad esempio quella in essere con Tridon, e perché no, in futuro potremo coinvolgere tutti i nostri Heroes nella creazione di un nostro gioco.